Buongiorno, siamo a fine agosto, volevo farvi vedere i miei girasoli, come sono cresciuti bene, i pomodori un po' meno, ma fa lo stesso, vedremo. È una giornata bellissima, dopo una giornata orribile di pioggia ieri, è un'estate difficile, è finita, sta finendo, la scuola è ricominciata neanche due settimane fa, e io già ho due figli a casa, in attesa di fare un test Covid, che dovrebbe arrivare oggi nella posta. Ho provato ieri a prenotare un test e mi hanno offerto come luoghi Dundee e Belfast, non proprio comodo. Quindi oggi dovrebbe arrivare il pacchetto con i test, che faremo e poi spediremo, e speriamo bene, abbiamo le dita incrociate. L'università ricomincia a settembre, io non so ancora se lavoro o non lavoro, vedremo, come vi dicevo, un'estate difficile. Comunque, vi ho appena detto che è una bellissima giornata e si è messa a piovere, giusto per me. Vi saluto se volete cercarmi, sapete dove sono con l'email, spero che stiate tutti bene, tutti in buona salute, e che siate riusciti a sopravvivere anche emotivamente a questo periodo orribile. Tanti saluti, ciao! Tanti saluti, ciao!